eccoci qua siamo su uno dei miei cantieri entro ci dovrebbe essere soltanto un operaio che sta finendo di incartare questo appartamento ufficio e domani si procederà alla tinteggiatura eccolo qua il nostro valido si era imboscato visita improvvisa e lui si fa trovare imboscato tutto incartato qui c'è un po' di immondizia che abbiamo pulito già, incartato adesso mettiamo anche qua le pezze come procede? queste tende qua le incartiamo? le porte vanno bene così tanto per urlare va bene queste qua sopra profiliamo ci sono le staccate io vorrei andare avanti no no si è vallato il soffitto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.